Ciao ragazzi sono Chris e benvenuti nel mio garage. Sono passati pochi giorni da quando ho pubblicato il video relativo alla recensione del Top Shack TS e SD2 che alcuni di voi mi hanno detto hai recensito un prodotto della TAC Life che è apparentemente sempre identico. Che sarebbe questo? Quale conviene comprare? Ora sarà un video velocissimo. Avviciniamo la telecamera, li vediamo da vicino entrambi e poi vi dico quello che penso io. Allora ragazzi arrivano entrambi in questa confezione di dimensioni praticamente identica. Sono tutte e due importatori tedeschi. Schueffer Technologies Gmb e qui abbiamo Aukatechnology però da qui abbiamo AMZLab GmbH che è sempre tedesco. Entrambi made in Cina quindi il produttore cinese vende il proprio prodotto a questo marchio che fa la scatolina, ci mette l'adesivo e lo chiama Top Shack TS e SD2 e questo lo chiama TAC Life SDH13DC. Aprendo le confezioni troviamo per ognuno dei due brand i soliti dettagliandini che riguardano l'assistenza, garanzia e del piano informativo. In questo caso Top Shack NEA2 e TAC Life racchiude tutto all'interno di questo tagliandino ripiegabile. Entrambi manuale di istruzioni con le stesse figure ed entrambi scritti anche in italiano. E alla fine vediamo il nostro avvitatore. Come vedete già cambia un pochettino la disposizione. Qui abbiamo questa plastica sagomata che mantiene un po' in ordine il tutto. Qui abbiamo semplicemente dei separatori fatti di cartone. L'avvitatore è praticamente lo stesso identico prodotto in tutto e per tutto. E nei video avete visto che le prestazioni sono identiche. L'unica differenza sta nel fatto che il Top Shack ha la ghiera più chiara, il TAC Life ha la ghiera più scura e lo spazio riservato all'adesivo. Naturalmente ognuno mette il suo Top Shack, TAC Life e le caratteristiche sono due prodotti identici, ognuno brandizzato col proprio logo. Contenuto della confezione. Top Shack abbiamo cavetto per la ricarica, una serie di bit più l'adattatore, TAC Life e i bit sono contenuti in questo cofanetto che si può mettere a cintura. I bit sono di qualità leggermente superiore di questi, anche come sagoma e come forma sono leggermente superiori di quelli della Top Shack. E vengono venduti in questo comodo cofanetto col clip della cintura. Qui ce ne sono 30 più l'adattatore e come vedete qui ci sono i bit quelli speciali per svitare gli elettrodomestici. Cosa che qui non abbiamo. Abbiamo una varietà maggiore di Torx, di Posidrive, di Philips, esagonali e piatto. In più, Top Shack abbiamo la prolunga snodabile che ci consente di arrivare in punti difficilmente accessibili. Anche nell'avvitatore TAC Life c'è il cavetto di ricarica USB che è nascosto all'interno della confezione. Allora, quindi sostanzialmente diciamo che al di là della piccola differenza del cofanetto si equivalgono. Quindi come fare la scelta? I due prezzi sono identici. Sui 33€ nel sito ufficiale il TAC Life, questo modello, ma viene venduto intorno ai 30€ come prezzo base. Quindi 2-3€ in meno. E qui magari giustifichiamo il cofanetto. Lasciate perdere questa plastica che tanto poi gli avvitatori li prendete, li mettete nel cassetto, le scatoline, le buttate, i bit li perdete. Quello che conta è l'avvitatore in sé, il prezzo di vendita e l'assistenza e la garanzia post vendita. Allora, TAC Life è sparito da Amazon. Ufficialmente non c'è più su Amazon, perché se TAC Life fosse stata ancora venduta da Amazon, vi avrei detto direttamente solo perché c'è Amazon di mezzo, prendete TAC Life, ma non c'è più. Top Shack lo troviamo, il più famoso, dove troviamo maggior scondo è Banggood. TAC Life ora lo troviamo, oltre allo store ufficiale, anche su AliExpress. Banggood e AliExpress si equivalgono come assistenza post vendita. Non ho avuto esperienze dirette, ma ho fatto una ricerca di due belle orette su internet, cercando feedback delle persone che hanno acquistato su Banggood e hanno avuto qualche problema e delle persone che hanno acquistato su AliExpress hanno avuto qualche problema. Diciamo, modi e tempi di risoluzione sono più o meno equivalenti. Io non ho avuto mai problemi, quindi non posso dirlo come esperienza personale, ma appunto come ricerca fatta cercando di prendere più campioni possibili, più pareri possibili. La differenza sostanziale tra i due sta nel fatto che questo qua della Top Shack nel sito Banggood si trova spesso a un prezzo lievemente inferiore di quello che troviamo questo sul sito AliExpress. Ho fatto una ricerca in questo preciso momento. Nel sito AliExpress al prezzo base viene applicato un piccolo sconto del 20% e quindi il prezzo finale sta intorno ai 25€ più 3€ di spedizione con circa 30 giorni di attesa. Sito Banggood, prezzo base, applicato uno sconto quasi del 55%, viene venduto a 15€ spedizione gratuita. Quindi si trova molto più spesso in offerta su Banggood che su AliExpress. E da qui già vi sto dicendo che conviene comprare quello che costa meno. Naturalmente essendo uguali prodotti, comprate quello che costa meno. Ma se nel momento in cui decidete di comprarlo i prezzi si equivalgono, scegliete TAC Life se avete tanti altri utensili TAC Life, quindi vi fate una bella linea di utensili della stessa marca, scegliete Top Shack se avete tanti altri utensili della linea Top Shack. Quindi ragazzi tutto questo video e tutto questo giro di parole per dirvi semplicemente comprate quello che costa meno, tanto sono uguali. E vabbè, ho voluto fare questi 7-8 minuti di video per giustificare e per farvi capire il perché si è arrivato a questa conclusione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!